Anche il Vescovo della Diocesi di Assisino, Cera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino e i sacerdoti e religiosi diocesani, venerdì 25 marzo, nella solennità dell'Annunciazione del Signore, si sono uniti a Papa Francesco nella preghiera per la pace e nella consacrazione e affidamento della Russia e dell'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Il Vescovo Sorrentino ha celebrato la Santa Messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e partecipato ai Vespri e all'adorazione eucaristica nel monastero di Santa Lucia a Foligno. In un messaggio ai vicari delle due diocesi, Monsignor Sorrentino aveva invitato tutti a unirsi alla preghiera del Santo Padre per dare un grande segno di unità.